ok allora bentornati qui sulla north freeze di gemaris a quanto pare nel frattempo ha finito davvero c'era la differenza però tra course play e l'aiutante di giants lavora un po in moto diverso allora fammi vedere un po hai visto che c'è una nuova una nuova silvicultura o uno silvicultura guarda ne ho abbastanza però ne ho fatto ne ho fatto 50 puntate sulla silver round forest mamma mia però quanto allora è bello con la mappa lì è stata particolare perché tutta quella silvicultura diciamo che su una mappa normale non è che l'abbiamo mai fatta però con c'è farming simulator concentrato cos'è quel puntino rosso qua ma è lo stop farming simulator concentrato con solo esclusivamente su sulla come si chiama sulla silvicultura secondo me non boh non lo so non lo so io l'ho fatto ti posso dire che alla lunga alla lunga diventa un po noioso eh allora eh io dovrei avere un aiutante in giro che non so dov'è che non vedo soprattutto il maximum è qui ah è bloccato dal campo è bloccato da questo e c'ha ragione anche lui allora ce la faccio scaricare aspetta sì gli scarico in faccia no allora a me non dispiace la silvicultura allora portarla come gameplay la silvicultura non lo so fin quando possa piacere cioè allora se giochi invece fai una cosa che fai un multiplayer dove tagli la legna c'è quello che la carica quello con il che so con il camion che se la viene a prendere con la palla meccanica allora probabilmente diventerà una cosa anche carina da vedere però in single player silvicultura wow diventa molto molto lunga allora carichiamo un po di fieno che lo portiamo alla nostra cosa per alla nostra produzione della razione mista ho sentito un brutto cionco cionco di là non so cosa sia successo ma sicuramente è caduto qualcosa allora produzione di razione mista gli portiamo un po di fieno vediamo quanto ce ne vuole un paio di viaggi li possiamo fare se sono di più mettiamo il nostro impiegato allora calce viva io calce viva o una produzione che mi produce calce in quest istante senza che io ce l'ho però non mi ricordo quale sia ma adesso adesso la cerchiamo oh devo essere proprio dritto ok allora una produzione che mi fa calce ce l'ho io qualcosa che mi fa da calce allora questo di sicuro no questo neanche qua il compost di sicuro no questo no questo sicuro no il laboratorio questo no questo forse neanche che cacchio era secondo me ah forse questo questo calce eccolo qua 50.000 animali di compagnia ti stavo facendo una battuta però meglio non farla meglio non farla la battuta no no niente animali di compagnia la calce viva ce l'ho e me la vado a caricare la butto là dentro allora chi ha bisogno della calce viva era questa no calce viva si non ho guardato quanto fieno avevo bisogno aspetta che questo lo guardiamo così 160 no va bene così allora una volta avevo un uccellino io dovevo andare in ferie cercavo a chiedarlo ed è sparito se n'è andato da solo e da quella volta lì niente più uccellino oh l'hai capito bravo ok allora diamo una aspetta che volevo fare un'altra corsa prima che me lo dimentico poi devo andare a cercare di nuovo la calce dove cacchio era c'era un trattore qua bravo tu che di seminare abbiamo finito adesso faccio questo ok cipato perché c'è del cipato qua dentro oh yeah sono un po' pericoloso un po' pericoloso allora mentre lui scarica facciamo tu vai vediamo tutto produzione zuccherificio carica sfuso poi me lo porti in base si lo razione mista cavolo calceviva mi fai un viaggio così dopo lui si parcheggia da solo o allora condorianze per il pesce io ho lavorato in pizzeria e proprietario aveva un acquario con un pesce rosso solo che quel pesce rosso poverino c'erano i ragazzini che venivano ma ragazzini ragazzini poi abbastanza grande ragazzi da vent'anni una volta ogni tanto gli davano un goccio d'amaro un goccio di whisky quel poco gli rimaneva nel bicchiere due tre gocce gli buttavano dentro ha vissuto una vita quel pesce a volte lo tratti bene allora vediamo un po quella ha bisogno di essere caricata no aspetta andiamo a fare questo andiamo a prendere il fertilizzante a però l'altra volta ero vicino adesso sono lontano ma tanto ci metto uguale oggi vado con questa ma ci vengo con l'altro ci vuole lo stesso tempo ci vengo con l'altro così almeno un po di fertilizzante allora stai qui così almeno ne carico un po di più nella speranza che poi non mi finissero i semi ma vero che è comunque questo è l'ultimo il penultimo campo poi devo fare anche il fertilizzante addirittura ce l'avevo già 20 mila adesso ce ne metto un altro po dchnittando pubbiva alla sua la sua porzione di alcol fine settimana aveva sempre un goccetto poi l'indomani gli toccava cambiargli l'acqua ogni volta il pesce rosso più felice del mondo ha vissuto un paio d'anni dopo è morto anche lui il poverino però ma tanto i pesci rossi non è che vivono chissà quanto tempo no penso festeggiava no? fine settimana si festeggia alli hop e il festeggio ci voleva solo che qualcuno gli appoggiasse un po' di di fumo ed eravamo a posto e allora a proposito fumo guarda un po' quanto fumo fa questo è sporco anche questo dobbiamo lavare anche questo qui intanto inizio a parcheggiarli lì poi dopo li lavo tutti in una volta 4 anni e perché non gli dai l'alcol? quello è il problema se gli dai l'alcol un goccio vedrai che secondo me durano campano ancora di più allora ah no con questa non litighiamo perché questo funziona non so di voi chi ha visto la puntata con il camion con il rimorchio del camion che era più un casino che tutto il resto ma questo qua fa abbastanza presto ho parlato troppo a brashto dai ho parlato troppo a brashto ma vuoi cagher allora dove sei? trigger facciamo contrario o contrario no e perché io bo per fortuna che costano poco perché se ma i pesci rossi allora noi li compravamo in fiera i miei amici li hanno comprati no aspetta mi sono messo proprio da culo vabbè li hanno scomprati in fiera è durato poi vedi il trattoretto ce l'ha da 4 anni ok allora cambiamo qua torno a spostare questo perché altrimenti poi è in mezzo ah vedi secondo me è così riescono non riescono a proposito facciamo visto che sulla farming su questa mappa qua abbiamo anche l'allevamento di pesci Nenox se vuoi te lo vendo io uno ce l'ho magari te lo regalo dai questo è un po' sporco beh lo laviamo al prossimo giro andiamo a lavare quello e poi non ho più niente da fare oggi agosto sono le 4 ho fatto tutto quello che dovevo fare benissimo abbiamo finito in giornata mi manca solo di seminare quel campo lì lo facciamo senza che mi stacca ok parcheggio anche tu siamo a posto mio cugino aveva no mio cugino aveva il un acquario con i piragna non mi sembra che due o tre piragna non non mi ricordo cosa gli dava da mangiare però se gli dava effettivamente della carne o qualcosa del genere però ce li aveva due piragna però i piragna nell'acquario oh e anche il lupolo ce l'abbiamo adesso mi manca solo eh non lo so non saprei perché lui aspetta dove vai tu vabbè dove vava adesso se la vede lui noi portiamo questa destinazione non so quanto lavoro c'è solo che mia cugina aveva un altro mio cugino aveva il l'acquario quello grande ma grande secondo me 100 litri d'acqua ci andavano perché era un metro e 20 minimo un metro e 20 un metro e 30 per 40 50 ad altezza era grande lui è vero che poi aveva le pompe interne quella roba lì ma una volta al mese che doveva lavare i sassi che metteva dentro tutto il resto ci metteva mezza giornata che prima devi fare il travaso poi devi venire anche allo spazio dove fare questa roba qua allora anche quello è arrivato a destinazione quello sta arrivando a destinazione vedete che la serata giunge con tutto a posto bello quando riesce così gasolio come si è messa questa qua adesso si si ciulla 500 litri di gasolio e a pensare che il primo piano gliel'avevo fatto no 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 aveva acqua dolce però era grande cioè secondo me figurati che lo metteva quando lo tirava fuori che doveva pollirlo lo metteva su due sedie cioè quando era vuoto poi perché prima con tutto l'acqua dentro non riuscivi neanche a smuoverlo aspetta mettiamola di là ok ok oh c'è Bobo guardate un po' Bobo allora non ho fatto nessuna missione di di raccolta non so se adesso magari domani la facciamo ma per adesso di sicuro no ok e tu anche tu sei a posto vediamo cosa c'è da fare tiriamo via quel pezzo di legno lì e quasi quasi sapete cosa facciamo diamo una spianata su terreno dai prepariamolo così ce lo troviamo pronto spendiamo un qualche centesimo dai tiriamo via sti piccoli cose che mi dà un fastidio wow abbiamo fatto un salto col camion bello facciamo di nuovo aspetta aspetta facciamo di nuovo il salto vediamo un po' come viene eh però ho poco al rincorso aspetta allora facciamo il salto yo oh ciao trattoretto buona serata grazie per aver partecipato alla prossima ok allora questo lo mandiamo in factory anche te vediamo se perfetto questa la lasciamo qua con tutti parcheggiati devo solo aspettare che finiamo di seminare i due campi e poi tu hai finito tu hai finito tu vai lì e dopo ti vai a parcheggiare evito parcheggia sul campo ritiro rifornimento dov'è parcheggia parcheggia lavoro finito sì ok ci guardiamo dieci minuti questo qua dieci minuti no un minutino preciso altrimenti andiamo a spianare cosa facciamo andiamo a spianare andiamo a spianare e poi chiudiamo la puntata dai non so neanche come sono messo con il tempo non lo so vabbè tanto se la prolunghiamo al solito non è che è una novità andiamo qui costruzioni progettazione questo allora io vorrei voglio stare qui intorno a qua ma non è tantissimo questa parte non la non la tocco per ora perché se prima non posiziono la ehi oh guardate un po' come vanno giù i soldi se prima non posiziono di preciso la 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 produzione è meglio non toccarlo ok vediamo per fortuna che questa la trovo abbastanza veloce si vede tutto sì come là dietro come si è messi ebbah ok è preciso là certo che prima di posizionarla devo essere comunque sicuro al 100% che sta cosa qua non non si giri all'ultimo momento quando è così meglio salvare ma quanto costa un milione e due e non ho denaro sufficiente perché non mi dice quanto ci vuole eh sì perché probabilmente un po' spiana anche lei direi che se la piazzo così dovrebbe ah vedete un po' dove è il problema qui devo spianare anche qui perché devo andare in tutto indietro però vedete che lì non lo prende che significa che va spianato quella parte lì qua a destra siamo a posto qui a sinistra devo spianarlo ancora di più vabbè ragazzi però questo lo facciamo nel momento in cui effettivamente andiamo a prendere a posizionare la mod spendere dei soldi adesso non so fin quando ne valga la pena questa parte qua va spianata tutta fino a eh più o meno lì dove c'è l'erba sì però questo lo facciamo quando abbiamo l'intenzione precisa per andare a posizionare la 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 produzione intanto noi dobbiamo aspetta che ci vado così che facciamo prima finire di seminare qui e poi dobbiamo seminare il 22 e poi abbiamo finito con la semina ce la facciamo entro mese di agosto sì ce la dobbiamo fare direi che ce la facciamo vabbè però questo ragazzi nella prossima puntata sempre qui su la North East Marsh salutone ciao ciao